Allora invito Luca Micotti a fare questo gesto, ferma, devi stare fermo così, si si vede qua vicino al viso, ok, perfetto, ti hai inquadrato. Scusate, non è un gesto senza senso, è che la webcam riesce a memorizzarsi. Diciamo che ho salutato il pubblico da casa, perfettamente, benissimo. Bene, allora buonasera a tutti, ringrazio la società di letture e la professoressa Franca Cagliò per il gentile invito in questa sede così enegante. Dunque, questa sera parleremo di paesaggio. Io sono architetto e quotidianamente mi devo confrontare con una eterogenea, come ventaglio di interpretazioni del paesaggio. I committenti, gli impresari, i funzionari pubblici, il legislatore attribuiscono a questa parola e a questo concetto dei significati estremamente eterogenei, non radicati, non strutturati. E questo sembra quasi corrispondere a una strana situazione. Oggi noi parliamo molto di paesaggio, scriviamo molto di paesaggio e distruggiamo molto paesaggio. E c'è forse una sorta di coincidenza in questa strana quantità. Va bene, allora io credo che questa riflessione che vi propongo questa sera intorno al paesaggio possa aiutarci a ricentrare un po' il senso di questa parola, ma anche possa aiutarci ad affrontare le sfide del presente, delle sfide non da poco che abbiamo sotto gli occhi tutti. Bene, allora, questo lo uso in questo modo per andare avanti con le immagini. Ok, grazie. Allora, partiamo da Francesco Petrarca, perché Francesco Petrarca è una sorta di, una sua lettera in particolare, è una sorta di caposaldo per i filosofi che si sono interessati di paesaggio, che sono occupati di paesaggio. Francesco Petrarca scrive una celebre lettera a un amico, un agostiniano, Dionigi di Borgo Sansepolcro, dove narra una sua ascensione giovanile al Monte Ventoso, è un'ascensione del 1336 e intorno a questa lettera di Petrarca, a partire da questa lettera, si sono concentrati diversi studiosi che in età moderna, in età contemporanea, si sono occupati del paesaggio. Bene, adesso vi mostro questa immagine, vediamo così imparo a... Voilà, ecco, questo è il Monte Ventoso, siamo nelle Alpi Provenzali, si vede, sì, siamo nelle Alpi Provenzali, nel Dipartimento Francese della Valchiusa, un territorio che è stato abitato da Francesco Petrarca, già da molto giovane per diversi anni, e nella lettera si intuisce che lui da tempo desiderava, già quando era ragazzino, salire su questa montagna, andare a vedere che cosa si vede da quella montagna. La caratteristica del Monte Ventoso è, come si vede in questa immagine, di essere isolato in un ampio paesaggio e quindi lascia intuire che dall'assù dovrebbe esserci una vista, un panorama importante. Quindi, nel 1336, insieme a fratello Gerardo e a due servi, intraprende questa avventura. Molti anni dopo scriverà questa lettera a Dionigi, nella quale narrerà di quell'esperienza. Ecco, questo è quello che si vede dalla cima del Monte Ventoso, siamo a 1912 metri sul livello del mare, quindi c'è un vastissimo panorama. dalla lettera noi ricaviamo due, diciamo, due indizi, due indizi di due emozioni. Da una parte c'è un indizio che c'è molto familiare, moderno, il desiderio, la curiosità di andare a vedere che cosa si vede da lassù. e dall'altro c'è invece l'indizio di un sentimento che ci è meno familiare, certamente, che è il turbamento morale di aver provato quel desiderio. Francesco Petrarca, diciamo, formalizza questo turbamento attraverso quello che potremmo dire un espediente retorico, no? E cioè racconta che lui arriva là in cima, finalmente arriva in cima, apre, lui portava sempre con sé le confessioni di Sant'Agostino, le confessioni, secondo alcune ipotesi, il volume delle confessioni di Agostino gli è stato donato proprio dall'amico Dionigi, che era un agostiniano, insomma, l'espediente retorico è che lui apre a caso e legge questa, legge questo, questo passo di Agostino che dice, che dice, e vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e trascurano se stessi. Questo è il monito. Al di là del monito, le parole di Agostino a noi fanno pensare come già ai tempi di Agostino ci fosse questa propensione all'esplorazione, cioè non è una novità moderna l'esplorazione, il desiderio di esplorare. Pensiamo a Ulisse, ecco per dire. Bene, allora torniamo alla nostra immagine e procediamo lungo questo percorso, diciamo, del desiderio di andare a vedere. Allora, riferendosi all'ascensione di Petrarca, lo storico svizzero Jakob Burckhardt colloca Petrarca tra, lui dice, i primissimi fra i moderni a gustare il lato estetico del paesaggio. Attenzione, Burckhardt è uno storico che scrive a metà del XIX secolo e è stato uno dei primi teorici del Rinascimento italiano e è uno di quegli storici che hanno segnato una cesura, che hanno immaginato una cesura tra la storia medievale e il Rinascimento, che è una cosa che per noi è stata superata. Noi pensiamo, i storici contemporanei vedono una continuità tra la storia medievale e quella rinascimentale. Pensiamo a Jacques Le Goff, insomma, al pensiero della storiografia moderna. Va bene. Allora, noi siamo qua in cima, immaginiamoci di trovarci in cima a questa montagna come un'altra montagna sulla quale potremmo essere saliti, e che cosa facciamo? Che cosa succede? Allora, io mi sono elencato una serie di punti. Allora, primo punto, contempliamo, come dice Agostino, il paesaggio. Oggi la parola contempliamo non la usiamo molto di frequente, potremmo dire osserviamo, osserviamo il panorama, osserviamo la natura e in una parola osserviamo il mondo. Poi, cosa succede? Ci meravigliamo, facendo un passo in là, ci meravigliamo di quello che osserviamo. Ci meravigliamo, prendiamo questa immagine, dell'immensità, nel senso, se vogliamo, anche un po' leopardiano. La meraviglia è come potremmo dire una sorta di emozione, di è un'immagine che fa pensare all'emozione di sentirsi parte del mondo. Ecco, c'è una meraviglia. Poi, insomma, assorbiamo questa meraviglia, assorbiamo questa bellezza, assorbiamo il mondo in qualche modo e la facciamo nostra, come facevano i viaggiatori del Grand Tour nel paesaggio italiano, e come non fanno i turisti contemporanei che si muovono in massa quando, arrivando in massa in un luogo, lo annullano, lo cancellano e, come dire, cancellano la possibilità di goderne, di apprezzarlo. Poi, ancora, in termini di apprezzamento, possiamo dire che, usando la parola che ha usato Burkhardt, noi come dire, gustiamo il lato estetico. Cosa vuol dire il lato estetico del paesaggio? Vuol dire che attribuiamo un giudizio positivo o negativo a quello che vediamo. Questa è un'attribuzione dell'estetica. E l'estetica è una parola che rimanda immediatamente alla bellezza e noi ci viene da dire che è bello, però dobbiamo stare molto attenti a usare la parola bellezza. Io cerco di usarla il meno possibile e forse lo uso solo in questo momento in questa chiacchierata perché il concetto di bellezza è estremamente fragile, varia da epoca a epoca, da cultura a cultura, varia anche a seconda dell'età non solo storiche ma anche dell'età della nostra stessa vita. Quindi è una parola che io userei con estrema persimonia. Poi in cima a una montagna davanti di un'ampia veduta potremmo anche provare una sorta di sgomento che se io per un abisso il precipizio, le vertigini oppure davanti a un fenomeno naturale estremo. Ricordiamoci che stiamo parlando sempre di un'esperienza paesaggio o questa meraviglia è un'esperienza che ha a che fare prima di tutto con la natura nella nostra relazione con la natura. E tutto questo che vi ho detto fino adesso fabbrica dentro nostra mente una conoscenza. Cioè noi cosa vuol dire che quando andiamo qua sopra vediamo e conosciamo? La conoscenza è la fabbricazione dentro la nostra mente del mondo. Cioè noi ci fabbrichiamo osservando guardando ci fabbrichiamo ci fabbrichiamo il mondo dentro i nostri occhi dentro la nostra immaginazione. E da ultimo vorrei sollevare ancora un aspetto particolare che è stato sottolineato da un filosofo tedesco che si chiama Joachim Ritter e diciamo così che noi possiamo godere della meraviglia della bellezza se siamo liberi da finalità pratiche cioè se io vado lassù perché devo progettare un fabbricato è improbabile che possa godere di quella bellezza che possa meravigliarmi la meraviglia è consentita a chi è libero da finalità pratiche e questo lo intuisce anche Petrarca perché salendo racconta sempre con questi suoi aspedienti come dire narrativi incontra un anziano pastore che noi possiamo immaginare vivesse su su queste pendici che cerca di dissuaderlo dal salire e gli dice ma cosa vai lassù a fare che lassù non c'è niente certamente per un pastore che vive della ricerca del pascolo di un buon pascolo lassù non c'è niente e quindi alla fine Ritter ci aiuta a capire come il paesaggio sia una fabbricazione prima di tutto di cittadini cioè siamo noi cittadini che fabbrichiamo il paesaggio perché noi cittadini liberi dalle necessità pratiche dal rapporto anche molto doloroso e stretto con la natura liberi dalle necessità pratiche del del contadino del pastore abbiamo la possibilità di godere di quella meraviglia bene adesso lasciamo Petrarca facciamo un piccolo passo avanti Ambrogio Lorenzetti questo l'affresco del buon governo che conoscete tutti nel palazzo pubblico di Siena è stato dipinto nel 1338 cioè praticamente è stato dipinto quando Petrarca ha fatto la sua ascensione questa è un'immagine allegorica che è un'finalità politico pedagogica che serve per spiegare come si vive bene obbedendo alle regole eccetera eccetera attenzione quello che a me preme sottolineare di questa immagine è che mentre i pastori i personaggi i questi nobili uomini i i contadini al lavoro sono e anche le campagne lavorate la natura lavorata è rappresentata in modo molto puntuale preciso raffinato molto dettagliato la natura naturale laggiù le montagne i boschi sono appena appena accennati che cosa succede Lorenzetti lavora secondo il gusto di chi lo ha preceduto Giotto siamo una fuga in Egitto le montagne conveniamo tutti essere estremamente semplificate stilizzate sono dei simboli di montagna delle icone di montagna più andiamo all'indietro nel tempio più le immagini sono iconiche anche il bosco anche gli alberi sono rappresentati in questo modo stupendo ma indubbiamente non naturalistico ma simbolico o Giotto muore a pochi mesi di distanza dall'ascensione di Petarca al Monte Ventoso quindi siamo ancora in un torno d'anni nel quale sta avvenendo davvero un cambiamento però adesso facciamo un saldo più importante di cento anni e qua siamo al ciclo della vera croce di Piero della Francesca quindi siamo a metà del quindicesimo secolo il quindicesimo secolo che è il centro della nostra riflessione di questa sera allora qui che cosa succede? succede che rompono nella nostra nella nostra veduta due novità due novità davvero radicali lo spazio prospettico quel cubo prospettico la reggia di reggia o questa sala questo padiglione dello spazio di 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 salomone che che è uno spazio prospettico e poi fate caso alle montagne le montagne sono sembrano delle pietre preziose levigate sembrano delle non sono ancora delle montagne rappresentate in modo naturalistico però in cambio se guardiamo gli abiti i i personaggi il cavallo le colonne fa la sua comparsa una come dire corporeità una fisicità delle persone allora nel a metà del quindicesimo secolo la cultura pittorica ma anche dell'immaginazione acquisisce queste due questi due grandi diciamo novità lo spazio prospettico e la fisicità dei corpi la fisicità degli oggetti delle cose delle persone bene allora che cosa è successo è successo che nel quindicesimo secolo noi siamo nel pieno di dello sviluppo della della dell'articolo di una migliore articolazione della matematica europea moderna siamo nell'età di Luca Pacioli che teorizza il che teorizza la la divina proporzione siamo nell'età di Leonardo siamo nell'epoca in cui gli artisti matematici filosofi gli osservatori del mondo sono le stesse persone cioè quelle stesse persone scrivono Piero della Francesca anche lui scrive cerca di fare un trattato dell'epoca di Lombatista Alberti è un mondo che un mondo culturale che sta acquisendo una consapevolezza dello spazio e della fisicità delle cose uno spazio e una fisicità delle cose che costituiscono ancora il nostro sguardo oggi noi guardiamo ancora con l'ottica che ci è stata diciamo fornita da quella fase evolutiva della nostra cultura del nostro sguardo noi diciamo occidentali bene facciamo un passo avanti ancora e andiamo a trovare Leonardo da Vinci siamo nel 1510 Sant'Anna allora c'è questa immagine cerebrima molto amata di questa madre con questa figlia con questo nipotino questa immagine a forma di piramide che contiene ovviamente vediamo dei volti ormai totalmente come dire accurati dal punto di vista dell'anatomia della ricerca di una profondità dell'osservazione della fisicità ok ma guardiamo alle spalle alle spalle sono comparse delle montagne delle montagne che non sono più quelle rocce levigate quelle specie di scogli levigati o di pietre preziose che aveva ancora usato il Piero noi vediamo delle montagne là sullo sfondo molto più vicine alle nostre come come percezione allora andiamo a vederle un pochino più da vicino ed ecco qua adesso io non so quanto si riesca a vedere perché sono un po' io sono un po' addosso però insomma allora Leonardo da Vinci nelle nei suoi testi elabora organizza due diciamo definizioni di prospettiva lui conosceva la prospettiva del cubo prospettico della geometria di quello che abbiamo visto prima di Piero ma lui fa un passo avanti in una definizione che vale anche negli spazi naturali come questo fuori da un fabbricato che consente la rappresentazione non so col classico pavimento in piastrelle con la fuga e lui definisce due termini prospettici la prospettiva diminutiva che sta a significare che gli oggetti via via che si allontanano dal nostro occhio dal punto di vista diventano sempre più piccoli e la prospettiva di spedizione che è la prospettiva che fa sì che gli oggetti via via che si allontanano dal nostro occhio diventano sempre più sfumati dai colori più tenui e più azzurrati e perché questo? Perché Leonardo intuisce che tra il nostro occhio e l'oggetto distante c'è molta umidità sospesa nell'aria cioè lui ha capito che la questione non dipende dalla quantità di aria ma dalla quantità di umidità sospesa nell'aria che produce questo azzurramento questa sfumatura questo è un'operazione che ha a che fare evidentemente guardando queste montagne ci va a pensare proprio sta aprendo alla strada al nostro sguardo ormai abituato alla fotografia ok Sant'Anna secondo alcuni studiosi potrebbe essere stata dipinta a Milano durante il secondo viaggio la seconda permanenza milanese di Leonardo nei primi anni del XVI secolo e noi abbiamo cartoni si conservano schizzi disegni di rilievi fatti disegni di osservazioni fatti da Leonardo da Milano dell'arco alpino da una torre allora c'era il Duomo in costruzione possiamo immaginare che Leonardo sia salito sopra qualche costruzione e durante una giornata terza si sia puntato si sia disegnato le montagne che tipo di montagne sono? sono molto simili all'operazione che Leonardo fa con i corpi cioè c'è un'anatomia delle montagne vedete delle rocce con una proprio una stratigrafia una formazione c'è proprio un'osservazione della morfologia della montagna e poi c'è un'altra cosa che non conosceva né Ambrogio Lorenzetti né Piero della Francesca Leonardo mette il sole in un punto preciso e c'è la luce che arriva da un punto preciso illumina una parte delle montagne e mette in ombra l'altra consentendoci di vedere le valli le luci le masse mentre in un'opera come quella di Ambrogio non c'erano ombre non c'era la dimensione temporale dire che il sole è in un punto preciso significa introdurre nella percezione della natura una dimensione temporale tutto questo si chiama osservazione allora io ho voluto mettere questa diciamo sempre in omaggio al nostro ragionamento paesaggio matematica questa affermazione di Leonardo sempre ricavata da uno dei suoi testi che dice nessuno umano investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni e questa celebre affermazione ha chiaramente vale nel ragionamento matematico ma vale anche nell'osservazione appunto della natura è paesaggio se dimostrabile cioè se tutti gli espedienti che io metto in atto che riguardano la luce la prospettiva la quantità di umidità nell'aria la forma delle rocce c'è un enorme lavoro nella direzione come dire di una percezione realistica di una costruzione della realtà nella nostra mente il più vicino possibile al reale bene il filosofo Paolo D'Angelo scrive proprio a riguardo di questa questione la contemplazione estetica della natura è una compensazione una sorta di risarcimento e sostituzione di quello che è andato perduto attraverso la matematizzazione della natura frutto della scienza tecnica moderna questo sta a significare che il paesaggio contiene due aree due ingredienti due temi una parte di osservazione il più possibile scientifica oggettiva lo sguardo matematico è disincantato sul mondo ma dall'altra parte quello sguardo disincantato sul mondo produce una sorta di piccolo lutto produce una nostalgia per la fusione con la totalità della natura nella quale l'uomo per secoli si era sentito immerso Giotto non dipinge la natura nelle sue opere perché lui è così immerso nella natura da non vederla un po' come un pesce dentro l'acqua mentre Leonardo immagina un prende le distanze dalla natura per poterla vedere per poterla osservare la fa oggetto di osservazione come fa con l'anatomia umana come fa con un mucchio di altri di altri studi e dunque da questo momento dal quindicesimo secolo dal momento della matematizzazione dal momento da questa fase della modernità nasce il paesaggio poi vedremo che nasce anche come parola ma nasce proprio nella mente delle persone sia come osservazione del reale sia insieme come nostalgia di una relazione con la natura così totale e andata perduta che poi molto molto più avanti per via diverse produrrà come dire degli effetti non so sul romanticismo per esempio allora adesso facciamo un altro passo avanti che non è temporale perché addirittura siamo retrocessi di sei o sette anni rispetto all'opera di Leonardo ma andiamo in Veneto Giorgione la tempesta avete notato io uso solo vi propongo delle immagini iconiche molto celebri perché il mio tema non è io non sono storico dell'arte uso queste immagini per per parlare di paesaggio insomma per intenderci allora questa immagine qua secondo me funziona molto bene per introdurre un altro tema che è quello del paesaggio come frammento allora noi cosa vediamo vediamo Giorgione purtroppo è morto molto giovane ci ha lasciato poche opere e tutte delle opere un po' misteriose noi non sappiamo esattamente che cosa significa quest'opera è molto bello si leggono ipotesi formidabili sono tempi molto affascinanti quelli di Giorgione però stiamo attenti a questa cosa allora c'è una figura maschile giovane una figura femminile una maternità diciamo laica sembra una molto molto naturale questa figura poi c'è un paesaggio fuso nella natura con questo che si affaccia questo abitato che si affaccia su questo corso d'acqua con questo ponte degli alberi che sono mossi dalla tempesta da un vento e anziché il triangolo celebre triangolo usato da Leonardo con Anna Maria il bambino noi vediamo un'altra forma qua di triangolo che è la figura maschile e quella femminile e lassù diciamo la natura concentrata nell'attimo così del saetta di quel di quel fulmine che esce dalla tempesta allora noi siamo all'interno di una macchina dove è evidente che il paesaggio è un personaggio che pesa almeno tanto quanto gli altri due ok in questa opera il paesaggio conta non è più uno sfondo come dietro a Sant'Anna no questo è un paesaggio oggetto di osservazione e di come dire composizione che pesa tanto quanto le figure ok allora c'è un un filosofo tedesco che si chiama Georg Simmel che negli anni all'inizio del novecento ha teorizzato che il paesaggio è un frammento della totalità della natura che noi cogliamo con il nostro sguardo e io credo che questa immagine sia molto adatta perché se voi la guardate viene abbastanza facile da pensare che poi c'è qualcos'altro che non è rappresentato e che va avanti non può finire qui cioè questa tempesta queste figure chissà cosa c'è più a destra e più a sinistra ecco io credo che questa questa immagine ci parli molto bene della ci faccia molto bene capire che il paesaggio è è un frammento della totalità della natura è sempre un anello che ci collega con la natura ma per in forma di frammento e questo ci apre a un'altra a un'altra passaggio siamo sempre nella stessa epoca oppa sono andati indietro andiamo avanti è un altro passaggio andiamo da un altro dei maestri dei maghi dei geni di questa epoca Albrecht Dürer ho voluto mettere questa immagine che non c'entra niente con il paesaggio la melancolia perché rappresenta molto bene questa faccenda della della conoscenza c'è questa figura alata circondata di simboli c'è un quadrato magico matematico una clessidra la bilancia strumenti per la scultura per l'architettura un prisma è tutto un sistema che riconduce a un'idea fantastica di conoscenza un po' alchemica però guardate il volto di questa figura alata di questa di questo angelo femmina non so come dire ecco guardate come perplessa guardate questa questo sguardo e questa testa posata sull'abano la conoscenza ha a che fare con la perplessità ha a che fare con il dubbio ha a che fare con con gli interrogativi e io credo che questa immagine ci aiuti molto bene a parlare di uno sguardo nuovo che ha introdotto nella nostra vicenda Albrecht Dürer che è rappresentato da tre piccole acquarelli che vi faccio vedere questo è un paesaggio alpino questo che è stato usato anche nella vostra locandia è è uno stagno in una in un bosco e questo qua addirittura è Arco di Trento cioè questo non è neppure un paesaggio un pezzo di natura ma è esattamente il ritratto di un luogo allora con queste tre immagini che vi ho mostrato che sono tutte tre legate a un viaggio di Dürer in Italia dovrebbero risalire tutte e tre alla fine del quindicesimo secolo noi abbiamo senza quasi accorgere ce n'è fatto un gigantesco passo avanti perché il paesaggio qua è soggetto non c'è più personaggi non è più uno sfondo non è più come in Giorgione uno sfondo ma anche un po' collegato è puro ritratto di luogo addirittura con anche nome e cognome in questo caso sono degli acquarelli che Dürer fa per se stesso probabilmente in viaggio sono degli appunti ok allora il paesaggio sta diventando un genere pittorico non è più uno sfondo è diventato una cosa autonoma ok è diventato un soggetto e contemporaneamente è diventato oggetto di una osservazione un po' sulla strada tracciata da Leonardo di osservazione anche morfologica dei luoghi adesso vi faccio fare un breve poi ritorniamo al quindicesimo secolo però facciamo un inciso una piccola escursione rapidissima nel diciannovesimo secolo e andiamo a vedere alcuni disegni questi sono degli acquarelli di Torquato Taramelli che era un geologo che ha insegnato molto tempo all'università di Pavia nella seconda metà dell'ottocento questo va bene è un acquarello diciamo fino a un certo punto è acquarellato ma è una mappa geologica del lago maggiore questo siamo qua non lontano da Genova siamo alle spalle di Genova perché questa è siamo vicini a Volpedo nel pennino tortonese e questo qua è un panorama cioè è una veduta che tiene insieme la rappresentazione di certe conformazioni geologiche e poi ancora il nostro che è un geologo non è un artista il nostro geologo Torquato Taramelli per fare le sue studi le sue lezioni per analizzare dipinge questi ritratti di di luoghi con pure finalità di rappresentazione geologica di studio della geologia della forma delle montagne questo è il Montelesima è di nuovo siamo di nuovo non troppo distanti dalle spalle di Genova e questa è il Trebbia e vediamo che addirittura lui riproduce con l'acquarello queste forme di arbusti che seguono la stratigrafia questa lui chiama trasformazione serpentinosa questa questa forma di questa stratigrafia geologica e poi ancora questa non va neanche commentata questo è sulle Alpi vediamo un'immagine indubbiamente più che esplicita è l'acquarello che va a servizio della scienza è il paesaggio che diventa uno strumento della conoscenza si è sganciato diciamo dall'arte ok adesso per diciamo concludere torniamo invece nel nostro amato quindicesimo secolo che ci aiuta a a ragionare sul paesaggio e voglio usare questa immagine questa immagine di Jan van Eyck che è un pittore fiammingo ma il paesaggio laggiù non è fiammingo perché ci sono delle montagne quindi non può essere insomma non siamo in Olanda è un paesaggio della Borgogna questo quadro si chiama la Madonna del cancelliere Rolaine questo cancelliere era un uomo di grande potere che governava la Borgogna nel quindicesimo secolo in una certa fase nel quindicesimo quando il nostro Jan van Eyck era in in azione era il lavoro allora questa immagine che cosa contiene di nuovo una forma triangolo dove c'è rappresentato questo uomo di potere che addirittura è così potente che ama che anche il committente dell'opera che ama rappresentarsi lì personalmente in preghiera con davanti alla Madonna e al bambino e quindi c'è diciamo il potere la fede e il terzo soggetto di nuovo evidentemente laggiù fuori da quella da quella loggia il paesaggio io ho voluto mettere questa questa immagine perché nel quindicesimo secolo succede questo fatto molto molto importante significativo i paesi sono in forte trasformazione l'elite europee del quindicesimo secolo affidano ai pittori il compito di farsi aiutare a rielaborare le trasformazioni a rielaborare diciamo nell'immaginazione le trasformazioni in atto cioè vengono messi in atto delle trasformazioni sia su scala urbana che infrastrutturale nelle culture cioè proprio c'è un una una grande trasformazione nel quindicesimo secolo che riguarda il paese e chi più del pittore può diventare interprete di quelle trasformazioni e farsi e aiutare la propria comunità diciamo a darsene una ragione a rifletterci sopra che forse va a ben vedere davanti è proprio quello che a noi oggi manca un po' e allora perché io ho voluto mettere questa immagine che adesso vediamo un po' più da vicino così si vede quel paesaggio così fantastico di colture di boschi di villaggio la città il ponte la barca tutto questo mondo così è formidabile perché il paesaggio per diciamo i linguisti il termine l'idea di paesaggio nasce nelle fiandre e la prima sua parola secondo alcuni studiosi è la parola neerlandese landchap che poi genererà il tedesco landschaft e l'inglese landscape e che poi nel tempo diventerà tradotto poi vediamo in paesaggi in francese e poi per ultimo in paesaggio in italiano allora che cos'è landchap landchap definisce le terre bonificate nella nei paesi bassi del quindicesimo secolo e strappate al mare ma definisce anche le comunità che strappano queste terre al mare che le coltivano che se ne prendono cura e che le abitano la parola land anche tedesca landschaft contiene land che sta per terra e quell'altra parola che ha a che fare con la comunità con la società quindi il paesaggio non è soltanto una cosa ma è anche la comunità di quella cosa che abita quella cosa e io credo che sia affascinante pensare a questo ma pensiamo al nostro Petrarca al monito di Agostino ma cosa c'è di più moderno cosa c'era di più moderno allora di più pazzesco di più impensabile che andare ad abitare una terra strappata al mare innaturalmente strappata al mare allora succede che quindi i linguisti hanno trovato al confine tra Francia Paesi Bassi eccetera nel Fiandre queste prime queste prime traduzioni di l'amcha pin paisage la parola paisage è francese è fatta da paese che viene dal latino pagus che vuol dire unità antropica di nuovo vuol dire paese e vuol dire anche abitanti del paese i paisan o i pagani che abitano il pagus e il suffisso age francese è molto interessante perché vuol dire allude a un farsi a un fabbricarsi a un prendere coscienza a un trasformarsi cioè paisage è il farsi trasformarsi sia nel sul luogo proprio coltivando costruendo sia in pittura dipingendo sia nella mente di ciascuno fabbricandosi un'idea di luogo paisage racchiude il farsi del paese ok e lo stesso significato poi arriverà in italia poco più avanti nel quindicesimo secolo anche perché i contatti come abbiamo visto artistici eccetera sono fittissimi vi mostro questa questo aspetto vedete quelle due piccole figure lì in mezzo allora secondo uno studioso che però così un signore che si chiama Luigi Grazioli lui ipotizza in base a una serie di autoritratti eccetera che quel signore col cappello rosso adesso forse c'è un po' più grande qua no ho sbagliato no sono più capace di andare avanti no no volevo andare avanti ah sì sì no no ma è che io volevo proprio andare avanti ah sì ho un inceppamento nel se non rimaniamo qua eccolo qua allora l'ipotesi è che questo signore con questa specie di turbante rosso sia l'autoritratto del pittore e che cosa fa questo pittore sta osservando il paesaggio e quasi quasi è come se stesse inducendo quell'altro suo chiamiamo ospite che poi siamo noi che guardiamo l'opera a guardare giù cioè l'idea è che il paesaggio dipinto è davvero una macchina per osservare e per sentirsi parte del mondo osservato ed è una faccenda che rimarrà poi perché poi Caspar Davide Friedrich molto più avanti userà il suo viandante sul mare di nebbia di spalle per consentire a tutti noi di medesimarci quindi è un trucco come dire molto efficace della pittura questo di mettere un personaggio di spalle per farci entrare nell'immagine bene allora io ho finito questa ultima immagine di siamo tornati a Piero della Francesca così chiudiamo il cerchio questo è Piero della Francesca dipinge Battista Sforza è il duca di Montefeltro è un dittico che però se lo mettiamo vicino si vede il paesaggio completarsi è probabilmente il ducato di Montefeltro allora i due personaggi sono ritratti di profilo come se fossero su due monete sono due icone perché è il potere ok il potere si esercita su un territorio e quello è il territorio è un'immagine fantastica del ducato è il paesaggio fiammingo che è arrivato in Italia durante l'arco della vita di Piero della Francesca lui ha fatto conoscenza è arrivato a questa notizia di questo paesaggio è arrivato a questo modo di vedere e lui l'ha l'acquisito l'acquistato e quindi è per me molto bello pensare che l'uomo della conquista dello spazio poi arrivi alla fine a questa conquista così come dire avviata dai fiamminghi ma poi giunta giunta anche da noi allora questa immagine che cosa vuol dire questa immagine serve per rendere pensabile il ducato di Montefeltro per rendere pensabile il potere il ducato ma anche per rendere pensabile il paesaggio rendere pensabile la natura ecco noi io ho concluso questa questa chiacchierata abbiamo parlato di osservazione di meraviglia di conoscenza di emersione alla coscienza di di una natura che prima c'era ma non non ci avevamo quella quella relazione così intima abbiamo parlato di sguardo estetico ecco io credo che se quando parliamo di usiamo la parola paesaggio riusciamo a fare l'operazione di risalire a queste chiavi operative queste chiavi iniziali alle chiavi del significato del paesaggio anche nel senso che abbiamo visto della pittura fiamminga cioè del territorio strappato alla natura per diventare natura artificiata come dice Leopardi ma un territorio pieno di cura che può esistere solo grazie alla cura ecco io credo che se noi siamo capaci di ritornare a questi fondamentali possiamo usare meno a sproposito la parola paesaggio e forse possiamo ricavare alcuni alcune chiavi per affrontare il presente il riscaldamento globale i drammi che leggiamo sui giornali in questi giorni la distruzione il consumo di suolo la distruzione tutto quello che sta avvenendo sta avvenendo senza che noi abbiamo gli strumenti fatichiamo molto ad avere degli strumenti per rappresentarcelo è come se fossero fenomeni così che ci sfuggono più grandi di noi e forse il paesaggio può essere una chiave per aiutarci a riprendere contatto con la natura e col mondo e io credo che queste parole ci possono aiutare ad andare in questa direzione grazie della pazienza che bella che bella e raffinata conversazione che l'architetto Micotti ha portato nel ciclo della professore Sacagliò sulla matematica in realtà abbiamo veramente deviato il ciclo di matematica continuerà tra settembre e ottobre con due appuntamenti veramente matematici perché avremo due grandi della matematica come quartetti col prof Quarteroni e prof Lucchetti che abbiamo già incontrato io ribadisco il grazie a Luca Micotti perché tanto ci interessa il paesaggio anche nella sede della società di letture e conversazioni scientifiche e quindi grazie mille e grazie a chi ci ha ascoltato vi ricordo sempre per non essere troppo pedante che questo è soprattutto un'associazione dove si incontrano le persone più che un luogo dove si ascoltano le conferenze perché è il luogo dove si discutono le conferenze quindi vi prego sempre ricordarvi che la piccola quota associativa è il modo per mantenere un'istituzione come questa viva vitale e anche allegra grazie buona serata grazie a tutti